Prima di condividere gli avvenimenti recenti, vorremmo chiedervi di mostrarci il vostro sostegno lasciando un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale. Il vostro supporto è di grande importanza per noi. Grazie. Antonio Carrisi, noto con lo pseudonimo di Albano, non è solamente un rinomato cantautore a livello internazionale, ma anche una figura di spicco nell'ambito televisivo e un talentuoso attore italiano. Nel corso della sua straordinaria carriera, ha conquistato i cuori di milioni di fan, vendendo oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo. La sua abilità artistica è stata celebrata con la conquista di ben 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Albano non è solo un artista di grande talento, ma anche con una profonda connessione con l'autore e arrangiatore del clan di Adriano Celentano. Inoltre, ha contribuito a numerosi successi di artisti di calibro come Mina e Battisti. Romina Power, compagna di Albano, ha condiviso la sua esperienza, raccontando che quando gli annunciò di essere incinta, la risposta iniziale di Albano fu indecisa, chiedendo, e adesso che facciamo? Tuttavia, la sua risposta finale fu inequivocabile, dovremmo sposarci. Tu sei il mio Virgilio. Questo legame speciale ha resistito al passare del tempo e alle sfide. La notizia triste che ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo è la perdita di un caro amico di Albano, di nome Mariano. Quest'ultimo ha spiegato che Mariano è stato vittima di un virus attualmente diffuso nel mondo, lasciandoci prematuramente. La loro stretta connessione risaliva agli anni Sessanta quando la carriera di Albano stava ancora prendendo forma.